Di nuovo in studio con Mattino 6, martedì 29 ottobre. Sono tante le questioni che oggi interessano il nostro Abruzzo, dal fallimento della Oma all'inquinamento dell'acquifero del Gran Sasso. Ma allora andiamo subito a scoprire la cronaca locale sui quotidiani abruzzesi, a partire dal centro. Poste rilancia, non chiuderemo gli uffici. A Roma 136 sindaci abruzzesi all'evento con 4.000 amministratori del Fante. Poste senza commissioni in tutti i centri. E sempre su questa questione, posta Matt, chiedi capitale d'Abruzzo. Conte subito la ricostruzione dei borghi. Il rischio, secondo il Premier, è che non ci siano più comunità disposte a vivere nelle zone terremotate. Sisma. L'Abruzzo chiede mille assunzioni. Riunione fiume del governatore con sindaci e associazioni. Ecco gli emendamenti al decreto inseriti anche i tribunali. E la giunta da 10 milioni e le aziende. Febbo e Liris. Via Libera al fondo Sisma 2009. Un ruolo chiave lo avrà la Fira. E il PD intanto presenta 4 eventi in Abruzzo per i 100 giorni del segretario Michele Fina. Fina fa il suo primo bilancio, il voto Umbro. E un caso isolato. Andiamo avanti sulle pagine abruzzesi. Sono 10 piccoli comuni dove sbarcherà il 5G. Fresa Grandinaria guida la lista della rivoluzione nelle comunicazioni telefoniche. Il sindaco Gian Giacomo. Così potremmo dialogare velocemente con il mondo. Una questione che però ha suscitato grandi polemiche. Deramo è quaresimale che vediamo qui in foto. E la Lega presenta una legge per favorire gli abruzzesi. Deramo è il nuovo segretario regionale della Lega. Pregaria Slogi Sittin all'Aquila con due pullman da Chieti nel giorno del Consiglio regionale a proposito di appalti e contratti in scadenza. Lettera di raggi a Marsiglio. Il terminal dei bus è salvo. Come abbiamo visto nei titoli precedenti. La sindaca di Roma e i pendolari abruzzesi continueranno a scendere a Tiburtina. Il governatore è suono rassicurato, ma la Lega non ci crede. Domani manifestiamo. Ed eccoci sulla pagina di Pescara. In maggior rilievo la cronaca. Il pugile disperato chiede scusa. L'ho colpito, ma per difendermi. Ovviamente parliamo della lite al semaforo di Francavilla. Sandro Mangifesta sostiene di aver ferito Cicalini con un solo pugno al viso. Mi sono pentito subito, ma la famiglia del 64enne in rianimazione replica. Ha lesioni in testa ovunque. Adesso vogliamo giustizia. L'appello. Chi ha visto ora si faccia avanti. I legali dei Cicalini chiedono aiuto. Ho sentito un tabaccaio della zona. Fatture false per evadere il fisco. Arrestato imprenditore pescarese. Ai domiciliari di Iorio, legale rappresentante di una società che si occupa di servizi pubblicitari. Secondo l'accusa farebbe parte dell'organizzazione smantellata nel Lazio da Polizia Postale e Finanza. E ancora sanzioni e sequestri. NAS, controlli nelle aziende produttrici di Uova. Organici carenti. Agenti in piazza. Oggi alle nove poliziotti del sindacato COISP manifestano davanti alla Prefettura. Appalto dei CUP in scadenza. La FIAS, personale da tutelare. I centri unici di prenotazione delle ASL. Andiamo avanti. Un parcheggio di tre piani nell'area di fronte al bingo. E questo è il piano del sindaco Masci. Riunione della maggioranza sull'intervento di riqualificazione dell'area di risulta. Spunta la proposta di realizzare un Silos in via Michelangelo con 390 posti auto. Intanto 5 Stelle sollevano la polemica. La Giunta non pensa più alle periferie e alla sicurezza. E proprio a tal proposito ai nostri microfoni ha parlato l'esponente dei 5 Stelle, Erika Alessandrini. Che appunto fa il punto della situazione su quel che succede a Pescara, dai suoi giudizi sulla maggioranza e le proposte per il capoluogo adriatico. Vediamo. Sul duppo documento unico di programmazione presentato e illustrato oggi nel Consiglio Comunale dal sindaco di Pescara Carlo Masci, le opposizioni di centro-sinistra, come dichiarato nei giorni scorsi e oggi dal 5 Stelle, annunciano la presentazione di numerosi emendamenti. Non una centinaia da parte nostra, ma alcuni emendamenti importanti e di merito che rappresentano le priorità del Movimento 5 Stelle per la città. Cosa che invece non abbiamo potuto leggere nel documento presentato dal sindaco Masci, in cui invece sono riportati tutta una serie di interventi decisamente secondari rispetto alle esigenze della città e secondari anche rispetto a tutta la campagna elettorale e la linea di mandato che ha presentato in Consiglio Comunale. Si parla di cartelloni pubblicitari, di rapporti con l'INA, di piano di rischio aeroportuale, ma nessuna parola è data ad esempio rispetto alla nuova Pescara, rispetto alla sicurezza, quindi tutti i famosi droni, le telecamere e quant'altro non è assolutamente citato all'interno del documento unico di programmazione e le questioni riguardanti il parco in più, le piazze in più, anche queste completamente assenti. Non c'è una parola sul Parco Nord, non c'è una parola sulla Pineta, non c'è una parola rispetto alla volontà ad esempio di creare un vero e proprio parco del mare rispetto alla zona del piano particolareggiato 2, ovvero l'ex cofa. Lì invece si segue semplicemente una richiesta che arriva dall'università di uno spostamento complessivo della sede universitaria. Per quanto ci riguarda, l'università è la benvenuta anche rispetto alla possibilità di creare nuovi spazi per i propri studenti, ma questo non deve riguardare lo spostamento complessivo delle volumetrie. In Aulea si è anche parlato della situazione di alcuni sgomberati di Via Lago di Borgiano che sono ancora sistemati in albergo. Purtroppo, dico io, perché ad oltre due anni ancora 26 famiglie attendono una collocazione, una collocazione che stiamo cercando di dare adesso sulla base del patrimonio disponibile abitativo da parte dell'Ater e anche da parte del Comune. Non sappiamo perché si parla del ferro di cavallo e noi abbiamo un patrimonio immobiliare che consta di circa 4.500 alloggi per quanto riguarda l'Ater e circa 800 per quanto riguarda il Comune. Noi cerchiamo di tenere tutti gli alloggi occupati, quelli che stiamo recuperando saranno messi assolutamente a disposizione per quei residenti laddove i criteri e i requisiti sussistono, per poterli ricollocare. Perché non trovo assolutamente dignitoso che a distanza di così tanto tempo delle famiglie continuino a vivere in un albergo, tra l'altro fuori zona, perché parliamo dell'hotel Amico a Città Sant'Angelo, sulla riviera l'hotel Holiday, o comunque con un contributo a carico del Comune per quelle abitazioni che i privati comunque hanno dato in locazione. Ebbene, abbiamo sentito parlare dell'ex cofa, abbiamo sentito parlare anche della questione degli sfollati rancitelli, allora ritroviamo queste notizie sul centro. Università dell'ex cofa, il piano bloccato da 3.000 emendamenti ed è scontro in consiglio, il centro-sinistra attacca la maggioranza. E gli sfollati di rancitelli, lite in aula, catalano del PD, le famiglie vengono così penalizzate, del trecco, non è vero. L'opposizione, favorevole all'opera, si è attrezzato fino al porto, il PD. Il progetto era nostro, si rivendicano gli esponenti di centro-sinistra. Oma, ultimo atto, dichiarato il fallimento. Il Tribunale decreta la fine dell'azienda di Castiglione dopo la rinuncia del concordato. 330 lavoratori perdono il posto. FIDAPA, Corsello, eletta nuova presidente, Federazione Donne, Atri, Professioni, Affari. I ragazzi autistici diventano artigiani. Con l'aiuto di maestro Liutaio, hanno realizzato cinque chitarre elettriche, progetto di fondazione Paolo VI e Angsa Abruzzo. E dopo questa bella notizia di solitarietà andiamo a Montesilvano. Una nuova discarica, la foce del Saline, rifiuti sparsi ovunque. Li vedete nella fotonotizia. Plastiche e copertoni abbandonati vicino ai grandi alberghi. Allarme per una sostanza gelantinosa prodotta però dai crostaci. Il calcio freestyle incanta a Porto Allegro e celebra il nuovo asso a Montesilvano. Il neocampione strappa il titolo a Celli davanti a un folto pubblico. Pompei è stato un successo. Andiamo avanti. Un guasto alla condotta ACA. Oggi chiuse strade e scuola. Francavilla dalle otto i lavori interessano un tratto della Nazionale Adriatica. Il quartiere San Franco. Il sindaco fa sospendere le lezioni dell'elementare. Sempre a Francavilla, il porto turistico, lavori spediti con la draga. Ma all'ora è sul trattore. Muore ex maresciallo Alberto Polini di 65 anni. Stava lavorando nel terreno vicino a casa. In contrada a Casale ha perso il controllo del mezzo. E intanto un'iniziativa ambientalista al comune di Picciano. lotta alla plastica borracce consegnate agli studenti. E sequestrate mille magliette contraffate. Successo a Scafa. La Guardia di Finanza denuncia un ambulante che vendeva le difese delle squadre più famose. Andiamo a Chieti. De Vita, nuovo segretario generale. Un incarico da 110 mila euro l'anno. Arriva ad Ancona. Il prossimo capo amministrativo dell'ente. Prende il posto di Pagliaricci. Entro due mesi l'entrata in servizio al foro Boario. Attesa per il via libera del ministro Patuanelli. Mentre vediamo qui in questa mappa le postazioni della Camera di Commercio Unita di Chieti Pescara. L'università riapre Palazzetto dei Veneziani. Lo storico edificio torna al centro della Villa Culturale. Domani l'inaugurazione con il rettore Caputi qui in foto. Andiamo avanti. Trovato morto nel circolo del biliardo. Il corpo di Michele Pietro Paolo di 66 anni era sul pavimento con una ferita alla testa. La procura apre un fascicolo. Teramo colpo da 5 milioni al Gratta e Vinci. I fortunati sarebbero due operai stranieri dei cantieri della ricostruzione post-sisma di passaggio a Tintorale. I precedenti 2 milioni a Sulmona. Giugno e il jackpot al Super Enalotto nel 2018. Comunque ricordiamo le probabilità di vincita sono assai, assai scarse. Morto dopo la lite ad alba c'è un indagato. Avviso all'uomo che ha avuto l'alterco con la vittima. L'autopsia è deceduto per un ematoma. Andiamo avanti sulle pagine dedicate al capoluogo d'Abruzzo. Col center altri 180 lavoratori in piazza per difendere il posto giornata di sciopero dei dipendenti di Oli System. Il sindacalisti temiamo che possa chiudere prima che si concluda l'appalto per la commessa composta. E salti così la clausola sociale. Intanto Cialente, l'ex sindaco dell'Aquila, lascia il PD. Mi sono accorto di essere di troppo. Chissà a questo punto se aderirà a Italia Viva. Intanto Annalisa De Simone è defenestrata da presidente del Teatro Stabile. Tua offre il bus al disabile e salva la gita scolastica. Ha messo a disposizione un pullman per il viaggio didattico a Villa San Sebastiano. Il padre dell'alunno. Ringrazio la società per la sensibilità. Intanto a paterno di Avezzano tenta di uccidere la ex con la roncola. Ha condannato a sei anni. E l'ennesimo caso di violenza di genere in Abruzzo. Ce ne sono tantissimi. Ricordiamo ieri è arrivata la sentenza a Marfisi per il duplice omicidio di due anni fa. Prima di leggere lo sport andiamo sul messaggero Abruzzo che titola appunto sulla questione ambientale. Gran sasso, il nodo dell'acqua, incubo, tribetilbenzene, un nuovo sversamento, la segnalazione dell'arta su un episodio dell'11 febbraio scorso agli atti dell'inchiesta. I veleni del laboratorio, dice Augusto De Sanctis del forum H2O, sono finiti nei fiumi del parco. Ennesima emergenza che quindi rimette di nuovo in discussione la questione del laboratorio dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Sono 700.000 persone quelle che si riforniscono dall'acquifero del Gran Sasso e allora andiamo a scoprire la situazione nel nostro servizio. La presenza di 1,2,4 trimetilbenzene ed esano usati negli esperimenti Borexino ed LVD nelle acque in uscita dai laboratori del Gran Sasso torna a far suonare il campanello d'allarme nelle associazioni ambientaliste e in particolare nella mobilitazione per l'acqua del Gran Sasso. Le analisi sono state effettuate dall'Arta nello scorso febbraio sui 100 litri al secondo mandati a scarico dai laboratori dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e quindi non utilizzati per scopi idropotabili ma sversati nei corsi d'acqua del Parco Nazionale del Gran Sasso. L'agenzia regionale ha rilevato la presenza di esano in due campioni raccolti l'11 febbraio 2019 nei pressi del laboratorio e più a valle presso l'imbocco nord galleria autostradale. L'124 trimetilbenzene è stato trovato invece quattro giorni dopo sempre in un campione raccolto nella zona dell'Istituto. Nonostante le norme che vietano lo stoccaggio di sostanze pericolose vicino ad acque utilizzate per scopi potabili e che obbligano l'immediato allontanamento di quelle esistenti secondo la mobilitazione dell'acqua del Gran Sasso non arrivano segnali da parte dell'Istituto sollecitato a consegnare a Regione Abruzzo i progetti per l'allontanamento delle sostanze tossiche. Quello accaduto a febbraio, sottolineano gli ambientalisti è uno degli episodi di contaminazione limitati ma devono essere tenuti sotto controllo per evitare invece episodi più gravi come quelli del 2002 quando fuoriuscirono decine di litri di trimetilbenzene mettendo a rischio la salubrità di un acquifero che serve una popolazione di circa 700.000 persone. Torniamo sul messaggero l'Abruzzo non andrà da Nagnina la Raggi rassicura così sul capolinea dei bus la soddisfazione di Marsilio turbata dalla richiesta dei DEM per una commissione d'inchiesta sul servizio pubblico e a proposito di Partito Democratico ecco i 100 giorni di FINA da segretario regionale il PD non è più isolato il segretario regionale annuncia i prossimi impegni con i ministri e promette basta rese dei conti e allora andiamo a vedere il resoconto del centrosinistra abruzzese nel nostro servizio Segretario, primi 100 giorni in Abruzzo un bilancio ma anche e soprattutto i programmi per il futuro del Partito Democratico nella nostra regione ma tante attività quindi un partito che da fermo è tornato ad essere attivo un partito un po' marginale che in ogni occasione ha sempre esponenti nazionali adesso esponenti del governo un partito che aveva la tendenza ad essere diviso che invece è tornato ad essere collaborativo pur nel rispetto delle differenze ma lavoriamo insieme abbiamo costituito e messo in piedi i coordinamenti di amministratori donne, giovani e segretari di circolo un partito un po' incolore nella battaglia politica invece più netto lotta alla mafia ricostruzione, lavoro tornare ad essere più chiaramente il partito dello sviluppo della crescita al fianco degli ultimi tutte le iniziative che oggi abbiamo raccontato sono state fatte nei luoghi simbolo della nostra gente nelle periferie nei comuni piccoli della ricostruzione cioè lì dove noi dobbiamo tornare ad essere percepiti come lo strumento di riscatto e emancipazione la vicenda a Umbra la caduta della giunta uscente tutte le questioni che riguardano anche le inchieste che riguardano le questioni di sanità naturalmente hanno pesato così come anche l'evoluzione storica la sconfitta in molti comuni negli ultimi anni senza dubbio c'è una messa alla prova di un'alleanza di governo che ha solo adesso iniziato ma che deve mostrarsi più capace più efficace di rispondere alle esigenze delle persone per noi c'è un monito se vince la Lega che ogni giorno ancora con i suoi governatori più importanti Lombardia Veneto Friuli insiste sul progetto di autonomia che è stato proposto con i referendum che lì sono stati promossi e approvati beh l'Abruzzo e il Sud moriranno quindi se la Lega va al governo vuole andare al governo con quel programma di secessione dei ricchi come è stata definita efficacemente da Viesti noi non avremo futuro questo territorio non ha futuro lo dico a quelli che indossano Alberto e Giussano noi indossiamo invece il guerriero di Capestrano Tricolore per ricordare anche i rappresentanti leghisti abruzzesi che sono abruzzesi a proposito di guerriero di Capestrano andiamo all'Aquila a scuole già centinaia di firme contro il piano del comune cresce il fronte del no sostenuto da docenti genitori alcuni dirigenti nel documento si chiede di tenere conto dei lavori di ricostruzione degli edifici e intanto il centrosinistra prova ad allargare il perimetro della costituente ieri a Lance e andiamo rapidamente sulle pagine di Chieti nuove regole per i mercati in centro locali multiservizio il centrodestra sembra ricompattato Forza Italia noi eravamo critici per la lentezza l'assessore di Biase incassa il risultato e uno strumento per chi verrà dopo andiamo a Teramo cimitero di Cartecchio grave la carenza di parcheggi auto si aggravano i problemi strutturali niente più auto elettriche in dotazione agli anziani e due sole linee bus i fiorai lamentano la presenza di una micro discarica abusiva e grossi ritardi nella pulizia andiamo rapidamente sulla città di Teramo sociale e servizi prima gli abruzzesi Quaresimale e Teramo presentano il progetto della Lega di Legge per l'introduzione del principio di residenzialità e intanto sanità e pedaggi autostradali nel consiglio regionale convocato per oggi due questioni spinose e intanto abbiamo visto la raggi che rassicura Marsilio sull'autostazione Tiburtina Annalina sarà destinata a ospitare solo i bus provenienti dalle regioni del sud un altro caso di contaminazione a febbraio dopo gli incidenti che hanno portato all'inchiesta è accaduto ancora il forum chiede di spostare le sostanze tossiche e Teramo si conferma al top in Abruzzo qualità dell'ambiente cittadino in peggioramento di otto posizioni rispetto al 2018 siamo al ventottesimo posto in Italia si parla appunto della qualità dell'ambiente cittadino e adesso andiamo a leggere lo sport ripartiamo dal centro andiamo subito su quello che ci interessa ovvero la serie B Juve Stabia Pescara Zauri non cambia e punta al bis per la consagrazione confermato il 4-3-2-1 con cui ha sconfitto il Benevento Castrati sarà tra i pali il Menti un tabù da sfatare in Bil Del Fino sempre K.O. i Biancazzurri tra i cadetti non hanno mai vinto a Castellammare di Stabia l'ultima volta i due allenatori Caserta e Zauri si sono affrontati in campo partita importantissima questa per come banco prova della formazione di Zauri gli ultra hanno chiamato tutti sugli spalti l'hanno definita una partita dell'orgoglio e ovviamente vi ricordo che la partita la potrete seguire su TV6 con il nostro consueto appuntamento di diretta stadio andiamo avanti con la serie C un Teramo Sprint ma ora va registrata la retroguardia dal quindicesimo al settimo posto nel giro di una settimana adesso il diavolo deve imparare a gestire i vantaggi e subire meno reti intanto il calcio giovanile segna con la mano ma il tecnico va dall'arbitro e fa annullare il gol grande gesto di sportività intanto il Pineto marcia a punteggio pieno Valentini trascina la valle del Vomano e la Gladius travolge anche il River 65 Cologna e Renato Curi Angolana a Valanga andiamo allora a leggere come il messaggero interpreta le notizie sportive vai Pescara sotto con la Juve Stabia l'incitamento del messaggero questa sera alle 21 il Biancazzurri nel dito delle Vespe di Castellammare Zauri avversario temibile conta pure il fattore ambientale Fiorillo non ci sarà il grande ritorno di Bettella diamo il massimo e intanto per quanto riguarda la palla a volo sieco in testa una bella sensazione il coach lanci il nostro obiettivo e la salvezza ma non sono mancate sorprese nei primi due turni il Teramo nei playoff il segreto è Ilari e non è uno dei nomi più blasonati del mercato però dal suo inserimento la mediana ha trovato equilibrio caos in casa Bisceglie prossimo avversario si dimette il patron e intanto la serie D Amelia Vastese non tutti remano dalla stessa parte il tecnico si difende difende le sue scelte dopo la contestazione sempre la serie D vediamo il Chieti fiducia a Grandoni arrivano due rinforzi e il Pineto rigenerato da Arrachini quattro volte quattro vittorie di fila sempre la serie D ricca di Abruzzesi ora notaresco sa essere cinico la capolista ha inanellato l'ottava vittoria consecutiva trascinata dal sindaco Sansovini ma non si monta la testa Roseto Pieric e De Fabrizis da recuperare l'Avezzano Paris cerca rinforzi per l'attacco Castiglia pronto a ricominciare da Giulianova abbiamo visto quindi un'ampia pagina dedicata a tutta la serie D ma non solo anche il motociclismo Iannone la migliore corsa è bello tornare davanti ha detto il corridore di MotoGP di origini Abruzzesi andiamo velocemente sulla città il quotidiano della provincia di Teramo andiamo ovviamente direttamente alle pagine sportive ecco qui con overtura ovviamente il Teramo la squadra della città del quotidiano diavolo serve un poker un poker per servire il tris la preoccupazione di dover lasciare il tavolo delle grandi prima della Paganese poi una settimana che riporta il Teramo con le carte giuste Giulianova successo Colchieti e c'è Castiglia la rete dagli 11 metri di Suriano regala tre punti preziosi alla squadra di Federico Del Grosso e il basket Roseto dimentica Verona domani si gioca tre periodi giocati alla pari con la Tezenis prima dello sprint Scaligero ma ora c'è il turno infrasettimanale a proposito di pallacanestro Giulianova una serata tutta da dimenticare Fabriano di Laga andiamo avanti sempre con il basket Teramo che peccato arriva lo stop contro il Piacenza errori di gestione il canestro di Birindelli condannano la formazione di coach Cilio e la Palavolo serata nera per la Blue Italy arriva il KO la Nefosimo passa al Palavoli per 3 a 1 la squadra di coach Pasquali subisce il primo stop stagionale ma ancora il basket la TASP sorride ma stirpe avvisa gioco di squadra da migliorare rapidamente vediamo anche il calcio femminile Free Girls KO con rigore dubbio occasioni mancate ad Ardea una sconfitta di misura per le ragazze di mister Mucci con l'Aprilia e con cui il calcio femminile possiamo concludere la rassegna stampa di questo martedì 29 ottobre vi ricordo che l'appuntamento con l'informazione alle ore 14 con il TG6 mentre Mattino 6 come tutte le mattine torna domani grazie e buona giornata un buongiorno con Mattino 6 martedì 29 ottobre oggi nella nostra rassegna stampa la politica nazionale perché trema il governo dopo la pesante sconfitta in Umbria ma anche la cronaca abruzzese perché è stato decretato il fallimento della OMA 330 operai hanno perso il posto e c'è anche purtroppo una nuova emergenza inquinamento nelle falde acquifere del Gran Sasso allora iniziamo subito dalle prime pagine dei quotidiani abruzzesi andiamo sul centro che titola appunto col fallimento dell'importante azienda fallita la OMA in 330 vanno a casa a Castiglione la sentenza è del tribunale i lavoratori perdono il posto e a Pescara imprenditore ai domiciliari per fatture false e un parcheggio di tre piani davanti al bingo tragedia a Moscufo ex carabiniere muore al lavoro sul trattore nella fotonotizia e la grande vincita al superenalotto due operai stranieri vincono 5 milioni di euro al gratta e vinci e parla il pugile mi sono solo difeso per quanto riguarda la lite in strada a Pescara appello ai testimoni dei familiari del ristoratore in coma e nel taglio alto la raggi scrive a Marsilio il terminal Tiburtina resta per gli abruzzesi le poste ai sindaci non chiuderemo gli uffici andiamo sulla prima pagina di Chieti Lanciano e Vasto a Chieti negozi piano con più parcheggi modifica la viabilità e limiti all'iper ridefiniti in mercati cittadini investì Cirotti donna dei guai per omicidio stradale successe sempre a Chieti a Vasto trovato morto nel circolo del biliardo e a Lanciano il corso diventa isola pedonale il ristoratore in coma il pugile si scusa la notizia che abbiamo letto poco fa per quanto riguarda la rissa di Francavilla andiamo sulla prima pagina di Teramo scuole servono spazi provvisori comune e provincia devono trovarli prima di aprire i cantieri il delitto di Giulianova nuove accuse ai santoleri da un testimone a Teramo è morto Celli il ristoratore gentiluomo a Roseto rifiuti arrivano centri per riuso e raccolta morto dopo la lite c'è un indagato ad Alba l'autopsia rivela che l'uomo è deceduto a causa di un nematoma alla testa andiamo sulla prima pagina di L'Aquila Avezzano e Sulmona call center sit-in di 180 lavoratori sono in pericolo i posti alla holy system che rischia il fallimento dopo abbiamo visto appunto l'avvertenza della Oma all'Aquila l'ex sindaco Cialente lascia il PD non è più il mio partito a Villa Vallelonga tua offre il bus al disabile salva così la gita scolastica Sulmona l'orsa Barbara catturata e radiocollata una pratica per monitorare la nostra fauna locale tenta di uccidere la ex sei anni ad Avezzano condannato il 35enne che armato di roncola fece irruzione in una casa e all'Aquila pesa il caso Saviano De Simone defenestrata da presidente del TSA ed eccoci sulla prima pagina del messaggero dedicata alla nostra regione che apre appunto sulla questione dell'acquifero acqua al veleno torna l'incubo un nuovo sversamento di trimetilbenzene dei laboratori del Gran Sasso è stato accertato dalle analisi di febbraio scorso la segnalazione dell'arta agli atti d'inchiesta di Teramo trasloco sventato ad Anagnina soltanto le corse dal sud i bus abruzzesi restano a Tiburtina questo era ciò che è contenuto nella lettera del sindaco di Roma Virginia Raggi al governatore Marsilio Angelucci fine dell'impero fallita anche la Oma che appunto era di proprietà dei fratelli Angelucci sentenza bis del tribunale di Pescara dopo il crack della holding lavoratori senza alternative ed è scandalo Lenzuola Lanciano rinvio a giudizio per Colasante nella fotonotizia vediamo la zona della Marina Sud di Pescara via allo scontro sulla destinazione dell'area ex-cofa Ateneo vista mare valanga di emendamenti infatti una delle proposte è quella di spostare parte dell'università nell'area appunto dell'ex-cofa andiamo avanti sulla città il quotidiano della provincia di Teramo che titola appunto sulla gran fortuna grattano e vincono 5 milioni di euro due giovani operai della ricostruzione baciati dalla fortuna del maximiliardario a Tintorale si vede qui nella fotonotizia la schedina vincente ecosistema urbano a Teramo Teramo al top in Abruzzo ma perde posizioni al 28esimo posto Pineto schianto sulla statale 16 due feriti gravi e a Roseto pontile al progetto esecutivo Carabinieri Emanuele Pipola un veterano delle missioni internazionali al comando nel taglio alto ovviamente la questione ambientale acqua contaminata dai laboratori è successo di nuovo a febbraio 2019 l'allarme non ha interessato l'acquedotto del Ruzzo sgomberato il condominio andato a fuoco a Isola del Gran Sasso spostiamoci adesso sui giornali nazionali andiamo sul Corriere della Sera che appunto come dicevamo titola sull'argomento del giorno che è quello della politica nazionale dopo le votazioni regionali in Umbria Di Maio basta alleanze con il PD tensioni nella maggioranza dopo la pesante sconfitta in Umbria a Conte non generalizziamo il leader leghista attacca il Premier e Meloni urne inevitabili se vinciamo anche in Emilia-Romagna tant'è che l'Emilia è una regione a storica guida di centro-sinistra e quindi potrebbe essere una sconfitta ancora più pesante quella che potrebbe verificarsi in Emilia-Romagna nel cambio alto il taglio alto il cambio alla BCE Macron la lezione di Draghi per un'Europa più forte vediamo anche il nuovo ISIS ipotesi Kardashian come erede di Al-Baghdadi dopo il blitz degli Stati Uniti che hanno portato appunto alla morte del leader dell'ISIS consegnato da Erdogan in cambio delle zone in Siria del Nord intanto in retroscena Salvini non ha fretta di tornare alle urne ovviamente si parla e nella fotonotizia telefonate pub pusher i mestieri di Anastasia la fidanzata e la ricostruzione del delitto di Luca Sacchi si parla di quella vicenda di cronaca del ragazzo ucciso con un colpo di pistola alla testa a Roma andiamo sulla Repubblica devo tenere i 5 stelle lontani dalla sinistra il leader si smarca dal PD ovviamente ha il virgolettato e pronunciato da Di Maio Conte, Grillo e Fico difendono l'alleanza Di Battista invece vuole rompere dopo il successo in Umbria Salvini fa già i piani per l'Emilia Romagna in vista del voto del 2020 Zingaretti governare ed avversari allora meglio smetterla nella fotonotizia Mattarella caro Mario ti dico grazie Mario è l'ex presidente della BCE a cui è succeduto la Gard andiamo avanti sul messaggero alleanza fallita il governo trema Di Maio dopo la sconfitta Umbra patto con il PD impraticabile 5 stelle quarto processo leader tensione sulla manovra Zingaretti basta strappi o conseguenze Salvini l'Emilia e poi Palazzo Chigi e per quanto riguarda i dati elettorali in fuga dai grillini il 75% dei consensi e il 25% dai democratici la Meloni Matteo Pensi di più al centrodestra se la Lega perde voti li prende i fratelli d'Italia staffetta con la Gard l'addio di Draghi e l'omaggio dei grandi d'Europa l'ex presidente della Banca Centrale Europea la fotonotizia è dedicata al fatto di cronaca romano i genitori di Luca difficile difendere Anastasia la ragazza interrogata oggi la pista dei mandanti di Torbella Monaca e vediamo anche la politica estera Bagdadi corpo in mare documenti e video i segreti del califo tra le macerie del covo ed eccoci sul mattino di Napoli flop alleanza e caos nel governo dopo il disastro in Umbria di mai avverte il patto con il PD impraticabile 5 stelle processo al leader Zingaretti basta Strappi Salvini ora Emilia e poi Palazzo Chigi l'addio alla BCE Super Mario e le sirene della politica i flussi elettorali carroccia in testa in 86 comuni su 92 grillini giù del 75% una grande batosta per i pentastellati nella fotonotizia Aline e Sofia un abbraccio da Oscar il riconoscimento a Wertmuller e l'ironia del mattino turisti a Napoli vedi Caravaggio e poi ti scippano il sovrintendente situazione allucinante subito le telecamere il tempo un conte in sospeso il governo patisce la disfatta Umbra Di Maio fallito l'esperimento con il PD la spallata vera può arrivare dall'Emilia e intanto si scalda Mario Draghi nella centropagina l'immancabile vignetta di Osho vediamo Mattarella e Mario Draghi questo faccia a faccia sorridente te posso chiamare se mi dovesse servire un premio in rarvolo sembrerebbe dirgli Mattarella appunto perché il voto Umbro ha messo in crisi il governo anche se presumibilmente dovrà andare avanti non volevo ucciderlo ma non ci crede nessuno a Caffarella l'accusato tenta la difesa disperata i testimoni però lo smentiscono andiamo avanti con la nostra rassegna Tiburtina la stazione bus non si tocca studenti scettici sulle rassicurazioni del Campidoglio questione come abbiamo visto prima quella della rispartizione di Tiburtina che interessa anche l'Abruzzo la stampa Conte Di Maio è scontro sul PD dopo la disfatta in Umbria il capo dei 5 Stelle vuole porre fine agli accordi elettorali locali il premio invece li conferma non c'è alternativa e Grillo li dà manforte e poteva andare peggio e nell'Emilia Rossa Zingaretti riparte dall'intesa con Renzi intanto Salvini scommette sulla strategia del pitone una raffica di successi regionali per far cadere il governo una pratica politica italiana di certo non nuova intanto Cavusoglu al Bagdadi eliminato grazie al patto fra USA e Turchia come dicevamo prima è stato Erdogan a consegnare al Bagdadi agli Stati Uniti ovviamente a discapito della popolazione kurda la staffetta tra il passaggio della campana tra Mario Draghi e Lagarde alla presidenza della BCE i leader salutano Draghi e un campione di europeismo eccoci sul fatto quotidiano Umbria Caputmundi il triangolo dei tre separati in casa ovviamente i tre sono i volti che vediamo a centropagina Di Maio Conte Zingaretti panico giallorosa dopo il voto nella piccola regione Di Maio basta intese col PD Conte no invece serve tempo vediamo le reazioni Lombardi dei 5 Stelle intese sì ma solo con chi accetta le nostre battaglie e Cuperlo uno dei volti più storici del PD basta guerrigli e pazienza e patti caso per caso Fiumicino no a raddoppio ma Benetton ha già preso un miliardo delitto di Roma e due killer il colpo effetto volevano solamente mettersi in mostra andiamo avanti con la nostra rassegna stampa ci spostiamo sul manifesto non c'è partito è netto il giudizio del manifesto il test elettorale dell'Umbria 400 mila votanti scuote il fragile equilibrio di governo e accende i riflettori sulle divisioni di PD e 5 Stelle drammatica l'emorragia di voti pentastellati debole la resistenza del PD e Salvini assopiglia tutto già farotta sull'Emilia e la politica estera lo show di Trump e i dubbi di Mosca per quanto riguarda il capo dell'Isis eliminato in Siria e vediamo ovviamente sulla questione l'editoriale di Alberto Negri l'inaffidabile racconto della Casa Bianca lo leggiamo rapidamente c'era una volta in Siria anzi a Hollywood ma questa volta non c'è Tarantino alla regia e il copione fa acqua da tutte le parti anche i russi del Ministero della Difesa smentiscono Trump non abbiamo mai aperto nessuno spazio aereo agli americani Alberto Negri che quindi continua ad avvisarci della pratica di diffondere fake news da parte degli Stati Uniti per quanto riguarda la geopolitica argentina Fernandez è presidente ora sfida al macrismo America Latina continuano le rivolte popolari che sfidano il dominio neoliberista in Cile ma non solo le popolazioni si stanno sollevando Gran Bretagna no al voto il 12 dicembre Johnson bocciato mentre per quanto riguarda la Germania dalla destra liberale a quella xenóvoca un cambio di rotta della politica tedesca 104 migranti in mare e l'Ocean Viking attende un porto da 10 giorni ed eccoci sul secolo di Storace la fotonotizia è dedicata alle forze dell'ordine poliziotti stufi Conte riesce ad avere contro anche le forze dell'ordine che stamane scendono in piazza a Monte Citorio in primo piano il centrodestra unito e adesso l'Emilia Romagna si riparte il 14 novembre vediamo qui che festeggiano Salvini Berlusconi e Lameloni mentre 5 Stelle guerra di Maio Conte sull'accordo con il PD e sale il rischio terrorismo dopo la morte di al-Baghdadi secondo il secolo di Francesco Storace ecco su Libero Conte e Zingaretti via un monito senza se senza ma quello di Libero sgraditi all'elettorato l'alleanza 5 Stelle e PD è stata bocciata senza appello Di Maio giura non la facciamo più Renzi gode i democratici non sanno che cosa fare Giuseppe fa il finto tonto e li riesce bene Giuseppe ovviamente Giuseppe Conte ormai soprannominato Giuseppe dai suoi dredrattori dopo che lo aveva chiamato così Donald Trump avvocato del popolo ma premier di quattro gatti dopo il fallimento elettorale Grillo non cambia idea vuole uccidere grillini democratici al cimitero è felice di restarci ma Libero ne ha per tutti Salvini numero uno pure fuori dal governo il boom della Meloni che ruba voti a tutti e se i comunisti perdono per Silvio è comunque una vittoria il sole 24 ore il quotidiano economico finanziario che ovviamente titola su una notizia di borsa Wall Street da record spinta da Dazi Tiffany e Tassi l'indice S&P 500 supera la quota dei 3.000 punti corre anche il Nasdaq nella guerra commerciale con la Cina Trump annuncia intesa per metà novembre ora sale l'attesa per l'annuncio dei bilanci di ben 150 aziende USA nella fotonotizia la Merkel in questo affettuoso gesto nei confronti di Macron Mario Draghi bicello maggio dell'Europa a Mario Draghi e per quanto riguarda le elezioni in Umbria Di Maio ferma altre intese con il PD Conte il voto non incide sul governo per i 5 stelle emorragia di voti verso il centro-destra il dato più evidente che emerge da queste votazioni intanto ancora l'economia a Lombardia l'export vale in metà dei ricavi aziendali il credito di Mediobanca Delfin sale al 7,5% Nagell non vendiamo generali in Argentina sempre per dare un occhio oltro oceano nuovi limiti per l'acquisto di dollari una questione questa che appunto eleva la liquidità alla popolazione crea numerosi disagi la verità bye bye Giuseppi dopo la disfatta giallorossa in Umbria braccato da Renzi e da Di Maio in cerca di visibilità Conte vacilla anche sotto i colpi che arrivano dall'estero al pasticcio degli 007 dati in pasto a Trump si aggiunge infatti la consulenza al fondo immobiliare sotto un chiesta in Vaticano il premier cita Modugno ma sbaglia canzone altro che meraviglioso lui rischia di volare la fotonotizia è dedicata a Salvini che dice il crollo dei 5 stelle effetto del tradimento a Mattarella chiedo è un esecutivo serio? e l'arbitro del concordato dei record gioca per una delle squadre in campo deve vigilare sulla crisi di Astaldi ma è nel consiglio d'amministrazione di Banca Intesa creditrice del gruppo ed ecco le leggi liberticide la chiamano lotta alle parole all'odio si legge censura per le idee sgradite la questione annosa appunto della xenofobia in virtù della libertà di espressione guerra dei De Benedetti l'ingegnere se ne va lascia la presidenza di Gedi dopo lo scontro con i figli andiamo avanti con la nostra rassegna stampa sull'avvenire il quotidiano di ispirazione cattolica che appunto sulla questione religiosa apre il giornale cattolici ebrei e musulmani tutti insieme a dire no all'eutanasia le tre religioni monoteiste firmano una dichiarazione sul fine vita da tutelare il suicidio assistito moralmente sbagliato sia vietato futuro umbreatile il gioco di parole dell'avvenire ombre sul governo Conte chiede più unità ma per Di Maio serve un ripensamento dopo la netta vittoria il centrodestra insiste per le elezioni mentre la maggioranza per forza si interroga l'uccisione del capo del Daesh i resti di al-Baghdadi dispersi in mare e sono ora timori in Siria e in Iraq andiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali andiamo sul Corriere dello Sport e scopriamo appunto le notizie che arrivano in primis dei campi di calcio pronti a tutto Inter a Brescia alle 21 con il mercato in testa Zhang Junior presente il bilancio e promette un grande futuro Marotta annuncia interventi a gennaio mentre Conte prova a risalire in vetta ovviamente in questo caso il Conte è un altro e Antonio Conte l'allenatore stangato Ribery spinta al guardialine tre giorni di stop al francese chiedo scusa ma rispettate la Fiorentina commisso arbitraggio scandaloso sollievo per Pjanic Douglas torna la Juve si consola Mire salta soltanto il Genoa 150 milioni nella Roma ok l'aumento dei capitali si muove il gruppo Friedin Milan resa dei conti sia il passivo da 146 milioni Garidis replica a Maldini intanto Napolemica il simpatico gioco di parole sul Napoli noi stiamo con Carlo frena in A ma vola in Europa non è tempo ora di pessimismo la B in campo alle ore 21 Perugiascoli da brividi anche il tennis il nostro Matteo Giramondo di talento Berettivi il nuovo numero 9 dell'ATP raccontato dai suoi genitori andiamo avanti sulla gazzetta dello sport Milan datti 4 mosse SOS Diavolo tra presente e futuro i rossoneri devono uscire dalla crisi Benere Duarte per la svolta Buonaventura e Caldara da recuperare cercasi leader Idia Rakitic per gennaio e Gazidis replica al top in meno di 10 anni Zanga al mercato Inter a casa Balo il club aiuteremo Conte occasione sorpasso a Brescia San Siro nuovo stadio il comune dice sì ma il Meazza comunque resta non sarà abbattuto sul taglio alto Icardi incanta Parigi pure Marotta Gongola e Zaniolo cuore di Roma e Cabello ci ripensa il ritorno del talento in casa giallorossa dopo il turno di riposo torna Cristiano Ronaldo in casa Juve impossibile farne a meno ed è sollievo per Pianic Ribery stangato con tre giornate commisso penalizzati Fiorentina per quanto riguarda la spinta all'assistente Atalanta sogni dal Leicester Bagnoli pare il mio Verona Gasp e due storiche imprese tutto sport in centro pagina vediamo la bandiera Buffon 2021 il piano di Gigi è ancora quello di andare avanti il portiere della Juve non ha intenzione di chiudere al termine di questa stagione voglio ancora giocare non mi vedo dirigente la decisione sarà presa senza fretta di comune accordo con Andrea Agnelli Mazzarri squalificato anche dalla maratona duro comunicato della curva via dal toro subito il tecnico fermato dal giudice sportivo niente Lazio Gagliani caro Monza sarà romantico esclusiva con l'amministratore delegato lo scritto nello spogliatoio dopo 31 anni in prestito al Milan torno alle origini e l'Inter che stasera gioca a Brescia Marotta a Conte avrà i rinforzi Milan alta tensione con gli azionisti a tre punti dalla zona B le tre giornate di squalifica da Terri Berì l'abbiamo visto ma vediamo anche il nuoto fede fede che duello Pellegrino contro Pellegrini sfida in piscina tra la campionessa del nuoto e l'asso del fondo e San Siro non muore si condizionato del comune al nuovo stadio per le milanesi ma il meazza comunque non si tocca e per la prima parte della nostra rassegna stampa è tutto adesso vi lascio alle previsioni in medio ma rimanete con noi perché subito dopo il break pubblicitario torneremo qui a sfogliare pagina per pagina i principali quotidiani abruzzesi a tra poco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti